Con 18 voti favorevoli, 4 contrari e 2 estenuti, ieri sera il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il consuntivo 2014. Un risultato raggiunto dopo poco meno di 4 ore di discussione, spese tra pregiudiziali e rilievi tecnici. Duro, come nella seduta dell'altro giorno, il capo dell'opposizione Dino Preziosi. Chi approverà il bilancio consolidato, ha detto prima del voto, licenzierà un consuntivo privo di rendiconti e dell'elenco dei crediti e dei debiti della società partecipata del Comune. Atti che, in alcuni casi, mancano da tre anni perché non sono mai pervenuti. Una serie di critiche alle quali però non è arrivata nessuna replica nel merito dalla maggioranza. Un atteggiamento che ha fatto andare su tutte le fure il consigliere Virgilio Cicalese che ha abbandonato l'aula. Pochi minuti prima lo stesso Preziosi, carte alla mano, aveva spiegato perché, secondo lui, il Comune sarebbe nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario per il terzo anno consecutivo. Prova evidente, ha dichiarato, ne sono le istruttorie aperte dalla magistratura per far luce su eventuali responsabilità. Poi la relazione dell'assessore delle finanze, Ia Verone, che ha sottolineato il rispetto del patto di stabilità e il risultato di competenza di oltre 3 milioni e 300 mila euro. Rassicurazioni anche sul paventato aumento delle coperture medie di asilo, menza e strutture sportive. Diverso il discorso per la Cieste, per la quale bisognerà ridurre le spese di personale e aumentare di circa 300 mila euro il contratto per i servizi risi. Infine i debiti fuori bilancio, circa 10 milioni e 800 mila euro quelli riconosciuti nel 2014. Oltre 3 milioni e mezzo quelli che dovranno essere approvati entro la fine dell'anno.